Oh no! Abbiamo sognato questo picnic di pittura per settimane, ma qualcuno ha rubato tutto il nostro cibo! Un picnic senza cibo? È solo una coperta! Abbiamo un mistero da risolvere! Andiamo! Quattro ammettoni! Ciao amiche! Serve aiuto per risolvere il caso dei croissants scomparsi? Oh sì! Non ci viene in mente nessun sospettato! Partiamo dagli indizi! Ma certo! Ci è caduta della pittura e mentre pulivamo ci siamo accorti che la roba da mangiare era scomparsa! C'è qualcosa di strano in questa pittura! Le impronte! scompaiono! Già! Abbiamo un indizio soltanto! Potrebbe non essere così evidente! Ma dovremmo guardare dentro la pittura! Sì! Sì! Facciamolo! Non preoccuparti Chelsea! La squadra dei sogni è dietro di te! Letteralmente! Che bello! Sì! È davvero bello! Le impronte! Sono scomparse di nuovo! Forse il colpevole si nasconde dentro qualche cespuglio! I colpevoli sono qui! E sono... Sono così dolci! Non hanno cercato di rubare il picnic! Loro credevano di essere stati invitati! Beh, non è mai capo tardi! Non è mai capo tardi!